Il Chiostrino dei Voti Il Chiostrino dei Voti Il Chiostrino dei Voti Il Chiostrino dei Voti Va aggiunto che il Baldovinetti adottò per questa opera una tecnica che sarà usata anche da Leonardo nell'ultima scena e che consiste nel completare l'affresco con l'uso di colori a tempera, assai più soggetti degli altri al degrado ambientale. La scena è notevole per l'amplissimo paesaggio che si apre dalla parte sinistra e che rivela nel Baldovinetti un'influenza da parte di Fiero della Francesca. Abbiamo poi la prima delle scene che illustrano la vita di San Filippo Benizi. Il Santo, nato nel 1233 e morto nel 1285, prima medico, entrato poi nell'Ordine dei Servi di Maria, ne divenne generale e ne favorì la diffusione in tutta Europa. Questa prima scena è opera di Cosimo Rosselli, un pittore che godé ai suoi tempi di molta fortuna e considerazione, ma che la critica moderna non solleva al di sopra del livello di mediocre illustratore di storie. La scena ci presenta il momento della vocazione del Santo alla vita monastica, come appare nella parte sinistra e della sua vestizione con l'abito dei serviti, rappresentata dalla parte destra. La narrazione si svolge secondo tipici schemi quattrocenteschi, senza grande originalità. Comincia da questa scena la sequenza di affreschi di Andrea del Sarto, che continuano le storie di San Filippo Benizi e che furono eseguiti tra il 1509 e il 1510. Il primo episodio affrontato è quello del rivestimento dell'Ebroso. La vicenda si sviluppa in fasi successive. Al centro, verso l'alto, l'incontro. Il santo accoglie e conforta il lebroso seminudo, poi lo riveste di panni. Un aspetto importante di questa scena è offerto dalla visione del paesaggio. Paesaggio tormentato, nervoso, animato da un senso quasi di sofferenza, nelle rocce dalle forme strane e negli alberi scheletriti e agitati dal vento. Sulla parete, tra questo affresco e il successivo, è collocato un ricordo marmoreo di Andrea del Sarto, scolpito da Giovanni Battista Caccini nel 1606. Andrea del Sarto ci presenta ora un altro fatto drammatico, la punizione dei vestemmiatori invocata dal santo e attuata dal cielo. Il miracolo è illustrato in modo vivace, immediato, popolaresco. Dal cielo scende la folgore che spacca l'albero e colpisce i peccatori. Anche qui il paesaggio partecipa della vicenda. I viottoli si inerpicano ripidi tra gobbe erbose. Gli alberi sono contorti, i cespugli spiovono giù dalle rocce. È un quadro che non dà un senso di pace o di riposo, ma di sofferenza e di inquietudine. Siamo lontani dai calmi e idiliaci paesaggi del classicismo quattrocentesco. Segue poi, sempre di Andrea del Sarto, un altro miracolo del santo. La guarigione di uno sessa. Vediamo Filippo nell'atto di benedire la ragazza che si dibatte, a stento trattenuta dai familiari. Notevole lo sfondo, dominato da un'architettura solenne di stile classico. Con un'apertura centrale dalla quale si intravede uno sfondo luminoso. Si pensa subito ai numerosi esempi offerti dalle pitture del Perugino, a cui ci richiama anche la presenza dell'albero in mezzo al paesaggio. Nella scena delle esequie del santo Andrea del Sarto, ci propone un altro miracolo clamoroso. La resurrezione di un fanciullo. Tutta la vicenda è come contenuta e raccolta in una bella architettura di tipico sapore rinascimentale. Al centro il catafalco sul quale giace il defunto circondato dal cordoglio e dal compianto dei confratelli. In basso la scena della resurrezione del bimbo, vista in due momenti successivi. Prima il piccolo giace morto, poi si rialza prodigiosamente tendendo la manina al santo come per ringraziarlo. E' una scena in cui compare la misura e l'equilibrio tipico della tradizione fiorentina del Quattrocento. Con la scena della guarigione di un fanciullo soccato con le vesti del santo, si conclude il ciclo delle storie di San Filippo Benizi, illustrate da Andrea del Sarto. Anche qui il pittore riprende la disposizione ambientale della scena precedente. Un absite monumentale abbraccia il gruppo dei personaggi che partecipano al prodigio. Il miracolo si rivela con misurata compostezza nei loro diversi atteggiamenti. Nella figura a destra di chi guarda e che rappresenta un vecchio che si appoggia al bastone, la tradizione indica Andrea della Robbia. Terminato il ciclo dedicato a San Filippo Benizi, Andrea illustrò due delle cinque scene delle storie della Vergine. La prima di esse, del 1511, si collega idealmente al presepe del Baldovinetti, affrescato nell'altro lato della stessa parete del chiostro. Si tratta della scena del corteo dei magi. Qui vediamo delle notevoli novità rispetto alla tradizione quattrocentesca. I magi sono colti nel momento del loro arrivo e sono disposti su una linea diagonale che rappresenta una rottura dello schema usuale che voleva la composizione centralizzata. I grandi mantelli, riccamente drappeggiati, che avvolgono i personaggi, preludono alle complicazioni formali tipiche del manierismo. Lo sfondo grandissimo, dominato da un alto albero, e la grande architettura che occupa il lato sinistro, sono altri elementi assai caratterizzanti. Nell'insieme è facile notare un'atmosfera mutata e diversa rispetto alle storie di San Filippo. Arriviamo così alla scena più importante di tutto questo ciclo di affreschi di Andrea del Sarto. Questo è un vero capolavoro del periodo centrale della sua attività. La pittura risale al 1514 e rappresenta la nascita della Vergine. La scena ha un'impostazione monumentale, cinquecentesca, e il confronto e le diversità con la pittura del Quattrocento si fanno qui sempre più evidenti. Basterà confrontare questa con l'analoga scena dipinta dal ghirlandaio nell'abside di Santa Maria Novella. Molto bella è la descrizione dell'interno di una casa fiorentina, con molti particolari utili ad una ricostruzione ambientale e di costume. Notevole soprattutto l'atmosfera che sembra avvolgere tutte le figure. Sulla destra abbiamo l'immagine di Sant'Anna a letto, dopo il recente parto e circondata dalle cure di alcune donne. A sinistra, vicino ad un caminetto, una donna tiene in grembo la neonata, che ha appena lavato come indica il bacile posto ai suoi piedi. Sullo sfondo, seduto su una tipica cassa panca fiorentina, c'è la figura di un uomo pensieroso, certamente il padre Gioacchino. Ma tutti questi personaggi sembrano quasi passare in secondo piano per il prevalere delle due figure centrali, le due donne maestose e gentili, elegantemente vestite, certamente venute a far visita alla puerpera. Esse sembrano muoversi con sicurezza e attirano l'immediata attenzione di chi osserva. In una di esse si vuole riconoscere Lucrezia del Fede, la difficile moglie dell'artista. Nello spazio tra l'ultimo affresco di Andrea del Sarto e quello successivo del Franciabigio, troviamo una Madonna col bambino scolpita da Michelozzo, progettista, come è stato detto, di questo chiostro. Il Franciabigio, autore nel 1513 dell'affresco col matrimonio della Vergine, è rimasto famoso anche per il clamoroso gesto con il quale deturpò la sua opera, cancellando a martellate la testa di Maria. L'iracondo pittore reagì in tal modo ai frati che vollero vedere il dipinto prima che questo fosse del tutto terminato e, contrariamente ai suoi voleri, ne sollevarono il riparo che ne impediva gli sguardi curiosi. Nessun altro pittore volle rimediare al malfatto e l'opera è rimasta per sempre così mutila. La scena è in realtà molto interessante per le novità che anche il Franciabigio apporta muovendosi nel solco del primo manierismo fiorentino. La composizione è assai lontana da quell'ordine armonioso che troviamo in un'altra opera dello stesso soggetto e precedente a questa di una decina di anni, il matrimonio della Vergine di Raffaello. Qui la scena è movimentata, le figure sono disposte su vari piani e in vari atteggiamenti. Lo sfondo è occupato dalla mole imponente del Tempio di Gerusalemme. Il Pontormo illustrando nel 1516 la scena successiva, quella della visitazione, cioè dell'incontro tra la Vergine e Santa Elisabetta, tema assai caro agli artisti rinascimentali, mostra anche lui rimarcabili novità. Le regole classiche sono ormai, almeno in parte, intaccate e superate. Nell'ambito di un ampio fondale architettonico si muovono i personaggi che mostrano una dignitosa bellezza negli atti e nei vestimenti. ciò appare soprattutto nelle due figure centrali. I colori sono caldi e vibranti, ma alcuni volti hanno un'espressione fissa, quasi allucinata, come il giovane che è sulla destra. ci sono poi delle figure con atteggiamenti del tutto inusitati, come la donna in primo piano sui gradini o il putto, nudo, seduto. Sembra che tutta la pittura sia come percorsa da un fremito verso qualcosa di nuovo e di diverso. si opera ancora una volta una rottura con la tradizione che aveva imperato fino a quel tempo. Così siamo arrivati all'ultima scena delle storie della Vergine, all'assunzione della Madonna in cielo, opera del Rosso Fiorentino, altro manierista contemporaneo al Pontormo, ad Andrea del Sarto, al Franciabigio. È datata 1517. Anche il Rosso rompe i vecchi schemi presentando figure dagli ampi panneggi. Uno dei manti, addirittura, deborda fuori dei limiti del quadro. La scena si sviluppa su due fasce. In alto, la Vergine sale al cielo, circondata da una nuvola turbinosa in cui si affacciano figure di regheti angioletti. Un braccio della Vergine si protende verso gli Apostoli, quasi cenno di saluto e di conforto. In basso, gli Apostoli che fanno a pannello sono colti in atteggiamenti diversi. I volti esprimono sentimenti di stupore, di meraviglia, di dolore. ma ci sono figure rivolte di schiena, opposte in scorcio, volti levati in alto e volti con tratti quasi caricaturali. Vedere la figura all'estrema sinistra. Tutta la rappresentazione sembra mossa da una ventata di agitazione e di vitalismo. a Grazie a tutti.